Margaret Atwood è tra le maggiori scrittrici viventi, tra i suoi romanzi più famosi ci sono Il racconto dell'ancella, che molti di noi conoscono anche per adattamento televisivo, e la trilogia di Matt Adam, che ha proprio a che fare con la dimensione della distopia ecologica, uno dei tre romanzi si intitola per esempio L'anno del diluvio. Atwood è un punto di riferimento anche per le questioni di genere e appunto per le istanze ambientaliste che emergono nelle sue opere narrative e saggistiche. Non ama Margaret Atwood essere definita scrittrice di fantascienza, quanto piuttosto di, come dire, narrativa speculativa, perché quello che lei racconta, anche se sembra ambientato in un mondo fantastico, in realtà lei dice è già avvenuto in qualche modo in qualche tempo della storia o in qualche latitudine. E di romanzare la scienza, per l'appunto, parla uno dei saggi contenuti in questo volume che vedete, Questioni scottanti, che è la sua ultima, la più recente, raccolta di scritti e articoli vari dell'autrice canadese. Tra gli scritti appunto inclusi nel volume è anche letteratura e ambiente. È un saggio del 2010 in cui Atwood si chiede, tra le altre cose, e la cito, che genere di storie possiamo raccontare noi scrittori sulla nostra situazione sempre più disperata? Quali storie potrebbero essere d'aiuto alla comunità umana di cui facciamo parte? Quali storie? Ecco, è lo stesso tema che troviamo in un altro importante saggio di Margaret Atwood, pubblicato in rete nel 2015, It's not climate change, it's everything change, che potremmo tradurre il cambiamento non è climatico ma è globale, cioè non è solo il clima a cambiare ma è l'intero sistema di condizioni e relazioni su cui si basano la nostra società e il nostro equilibrio di individui e di specie. Ecco, è un quadro impressionante che si conclude con questa immagine. La nostra condizione, dice la scrittrice, può ricordare quella di una ragosta in pentola che bolle fino a che non raggiunge quel grado fatale, ma noi diversamente dai crostacei possiamo ancora provare a uscire dall'acqua, possiamo ancora affrontare le conseguenze della crisi climatica. Questioni scottanti. 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 Grazie a tutti.